eccoci ragazzi oggi volevo parlare brevemente di una cosa che ho notato io sono ormai quattro cinque mesi che sono entrato nel mondo del business online e però mi sto accorgendo che quasi tutte le opportunità che escono ormai ce ne sono tantissime ogni giorno ne esce una nuova il problema principale è che non forma le persone quindi che cosa succede succede questo che una persona entra acquista il costo del kit o del prodotto se vende un prodotto reale però poi nessuno forma queste persone cosa succede che queste persone qui e alla fine non ottengono risultati e statisticamente provato che nel giro di pochi mesi poi abbandonino e quindi in pratica hanno buttato via i loro soldi ecco che entra invece in gioco collectiware collectiware a differenza di altre aziende online ti forma quindi sostanzialmente tu acquisti un kit di formazione questo kit di formazione ti mette a disposizione una vera e propria scuola di business è una scuola che a differenza di delle altre è stata creata da persone che hanno utilizzato questi metodi e che hanno avuto dei risultati reali tangibili non sono e non da solite teorie che si dicono quindi dai soliti ciarlattani che brillantano risultati ma che poi non hanno mai avuto o ottenuto nessun risultato in collective invece succede l'opposto quindi quando noi entriamo in collective il primo punto è la formazione quindi noi ci formiamo una volta che siamo formati e sappiamo lavorare quindi conosciamo le migliori tecniche e migliori metodi per poter promuovere il business noi iniziamo realmente ad avere dei risultati tangibili se sei interessato a capire di che cosa sto parlando puoi fare due cose o mi lasci un commento sotto a questo video o altrimenti mi contatti in privato ci sentiamo dopo ciao ciao